buonasera e buon fine settimana tutti cari amici in questo ultimo weekend di novembre oggi sabato 28 novembre 28 11 2020 alle ore 17 quasi bene dopo il video di un paio di giorni fa volevo ritornare qui sul mio canale youtube per fare un breve racconto di quello che è un po di questi giorni qui la mia preparazione per l'esame del primo modulo della patente europea del computer esame che farò martedì della settimana che inizierà il 30 novembre quindi mi sto preparando ovviamente sento l'aspetto pratico che quello teorico oltre questo mi sto dedicando anche all'ascolto di musica che ovviamente è anche una cosa buona come distrazione anche in più ho scoperto attraverso youtube alla sezione dal vivo che c'è anche tra i live lo sport ovviamente cose magari non di primo di primo rilievo calcio basket campionati top però insomma c'è c'è qualcosa c'è mi pare per i live mi sport videogame poi anche qualcosa altro anche qualche radio italiano mi pare che trasmette live sia in tv che anche su youtube e attendiamo ovviamente il nuovo dpcm in arrivo in questi giorni speriamo che sia un natale con un po' più di positività certo la situazione che stiamo vivendo ormai da febbraio marzo è difficile però crediamoci tutti insieme perché prima o poi sperando prima rispetto a poi ne usciremo fuori dobbiamo crederci tutti quanti quindi io vi auguro una buona serata un buon fine settimana che dire per quanto riguarda l'aspetto ecclesiastico della chiesa beh oggi ho visto anche una spezione uno spezzone dell'ordinazione dei nuovi tredici cardinali nella basilica di san pietro da parte di papa francesco e a proposito se non mi sbaglio credo da oggi c'è su alcuni momenti della messa cambiano alcune espressioni per quanto riguarda il messale romano tornando un attimo allo sport e poi chiudendo credo dovrebbe essere finita l'inter l'avevo lasciata che vinceva 3 a 0 non so se è finita così ho fatto un altro gol la gol della bandiera del sassuolo quindi io dopo aver fatto un altro ripasso delle domande teoriche quest'oggi dopo quello pratico di ieri vi faccio un po di pausa mi sto bello tranquillo e lunedì poi diciamo sempre senza un affaticamento diciamo pesante vado di full immersion di ripasso sia di pratica che di teoria vi riporto i saluti del mio caro amico Nicola che voi sapete abbiamo fatto le rubriche le rubriche poi magari in altri tempi le rifaremo e e sono sono contento che il canale della parrocchia che ho qui vicino casa mia sta crescendo il numero di iscritti siamo arrivando ai 550 sono molto contento e dai dai che cresciamo anche dal punto di vista di youtube con la parrocchia spirito santo grazie a voi tutti buon proseguimento fine settimana la prossima ciao ciao